musica Ragazzi, qui dallo stand Samsung vogliamo presentarvi il nuovo Samsung HomeSync Il dispositivo è pensato da Samsung come un cloud personale C'è un dispositivo capace di immagazzinare al suo interno, infatti ha un terabyte di hard disk tutti i file multimediali che ci possono servire per poi accedervi attraverso il proprio telefono Samsung infatti è compatibile solo con smartphone della casa coreana oppure da un pc sia tramite wifi, quindi wifi ed ethernet all'interno della propria casa sia all'esterno della propria casa infatti il dispositivo può parlare con internet e i nostri dati saranno sempre raggiungibili a patto che sia acceso perché come abbiamo detto non è un vero e proprio cloud ma è un cloud personale in questo caso sto utilizzando una Note 2 come telecomando remoto vedete? mentre io muovo qui e ho un'immagine di un touchpad l'immagine si muove anche sul televisore i dati sono sincronizzati abbiamo appena scattato delle foto vedete? esiste anche il multi-touch vedete? le foto sono tutte quante sincronizzate anche direttamente sul dispositivo il dispositivo in realtà è un box Android ed è possibile installare delle applicazioni come qualsiasi altro telefono o tablet Android è tutto qui da Samsung vi salutiamo e arrivederci da iSpazio e da Euronics Italia